brano intendo un ragazzo una ragazza è stato scritto questo è stato un po diverso da italo disco perché italo disco è nata one shot mentre questo è stato scritto in più sessioni e cambiato ha avuto veramente mille versioni diverse delle strofe dei ritornelli no mettiamo questo suono piuttosto che quest'altro e più di un più di un anno fa è partita cioè abbiamo assistito a quella a quella scena che ci ha dato il la ci trovavamo insieme ovviamente anche a davide petrella nostro fratello in stazione centrale a milano e vediamo questo giù dal treno questo ragazzo che è tentava l'approccio cercava di rompere il ghiaccio e tentava l'approccio con questa ragazza e ci siamo sentiti subito di dare attenzione a quella cosa osservavamo quella scena perché nascondeva un po il concetto del rompere il ghiaccio nei giorni nostri quindi dell'online con le difficoltà che può avere una persona che vive digitalmente vive in un'era dove digitalmente c'è spesso il primo approccio ma era offline cioè lì doveva doveva trovare l'idea continentale doveva trovare per citare la prima frase del pezzo doveva trovare il il gancio per per rompere appunto il ghiaccio e questa cosa non ci ha dato proprio là ci ha dato proprio la possibilità di iniziare a raccontare quel tipo di aspetto dal punto di vista proprio ovviamente con la scrittura pure di davide con le mille immagini per trasportarla nella vita di tutti i giorni di tutti noi siamo sentiti di raccontare quel tipo di concetto e non puramente la la relazione tra un ragazzo e una ragazza è un po quello che fa nascere il pezzo l'orchestra in generale proprio la performance di tutti noi sull'area sul palco dell'ariston debba essere una una gran bella fetta di quello che è il gol sonoro di questo pezzo perché la sentiranno tutti per la prima volta lì in quel momento e abbiamo a disposizione decine di musicisti che contro cazzo scusatemi però di quelli che veramente già solo alla prima lettura ci hanno dato modo di farci capire che noi non sappiamo solo quello però ecco è la la motivo per cui ci sentiamo di dare tutta questa importanza perché ci ha allargato proprio la la possibilità di a livello proprio di frequenze la possibilità di raccontare questo pezzo e assolutamente noi teniamo in priorità alta la performance secondo me la cosa sbagliata è appunto pensare paragonare pensare di ripetere quello che un artista ha fatto perché altrimenti diventiamo imprenditori non ci divertiamo più cioè non non ci piace ragionare con un approccio imprenditoriale nel studio di registrazione ci piace seguire quello che è il flow e italo disco ci ha dato l'ennesima conferma che quel flow naturale quella quella specie di sincerità nel raccontare lo stato d'animo e poi quello che arriva realmente quello che viene registrato quello che viene registrato quando sei davanti a un microfono non stai registrando solo di armonie ritmo eccetera stai registrando anche un mood uno stato d'animo e questa cosa ce l'ha per l'ennesima volta confermata italo disco perché è arrivata proprio nuda e cruda con nella sua primissima versione in un quarto d'ora venti minuti è uscita fuori così e quindi siamo detti ma ma sì questa cosa l'avevamo già avvertita su pensare male che era un altro un altro brano che facciamo uscire perché ci tenevamo a far uscire sappiamo che non facciamo niente però vogliamo far uscire questo suono ci teniamo a far uscire questo e poi alla fine arrivò al disco di platino primo primo in classifica radio e quella cosa li fu già una prima un primo segnale poi italo disco poi devo dire che parte da apparecchio prima perché mio papà è sempre fatto ascoltare soprattutto e b road vedi con quanto si sente quello che stavano pensando in quel momento con il loro stato d'animo quanto si sentivano liberi in quel momento di fare è quella quella cosa lì da bambino non è che la capivo al cento per cento però adesso mi sento di dargli ancora più ragione ovviamente con le dovute distanze dai beatles b road e ci sentiamo di andare in quella direzione cioè di raccontare quello che che abbiamo dentro poi se si arriva al grande pubblico siamo ancora più felici se non dovesse arrivare capita maria qua stiamo stiamo parlando di della vera mamma di questo progetto dal punto di vista artistico perché non ci dimentichiamo che mentre facevamo le serate alle scimmie col chiodo e le creste gelate e all'improvviso ci siamo ritrovati a fare un provino d'amici e e lei è stata la prima persona che ha creduto in questo progetto perché noi addirittura ci sentevamo pesci fuor d'acqua lì e lei per la prima volta detto lanciatevi perché forse il fatto che siate così diversi è proprio la vostra forza poi alla fine è successo quello che è successo maria è una persona che sento sento spesso e rimarrà sempre la prima persona a cui mi rivolgo quando ho bisogno di un consiglio è proprio lei e proprio mamma ma penso che tutti quelli che hanno un rapporto con lei che già conoscete vi abbiano detto la stessa cosa c'è lei veramente si percepisce il bene che ti vuole non solo dal punto di vista professionale noi siamo già felici in questo momento di di essere una realtà che ha una propria identità sonora questo non smetterò mai di dirlo perché negli articoli che sono usciti in questi giorni c'è già una nostra vittoria perché avere avere la quella fettina di torta che è una torta piena di persone che vogliono quella fettina cioè ci siamo in tanti che vogliamo quella fettina avere quella piccola fettina di riconoscibilità sonora è un obiettivo grande per noi sempre stato un traguardo grande di riconoscibilità di riconoscibilità